Intanto l'obiettivo di oggi, come dicevo prima, è condividere con voi quello che ho imparato e sperimentato in questi anni e come si creano gli obiettivi autorealizzanti. Vero la parola è molto forte, però sappiate che quando un obiettivo è ben formulato l'autorealizzazione è solo una questione di avere pazienza, è solo una questione di avere le corrette azioni, la corretta mentalità per farlo accadere. E poi anche la parola imposta al pilota automatico, comprenderemo stasera perché questo pilota automatico. Noi abbiamo un pilota automatico, un po' come il pilota di aerei che imposta il pilota automatico che mantiene la rotta, la stessa cosa ce l'abbiamo noi che è il nostro cervello. Quindi andremo anche a vedere quelle che sono le dinamiche, i programmi che utilizza il nostro cervello per utilizzarli a nostro favore, ovviamente, per far sì che noi possiamo ottenere quello che desideriamo. Come ho detto prima, in tutte le aree della nostra vita, in tutte. Quindi prendetela, come dicevo prima, scusate se mi ripeto, ma come un qualcosa che vi può servire a 360 gradi. Ovviamente, vabbè, questa qui è una parte che molti di voi mi conoscono, non so poi chi vedrà questa registrazione. Io mi chiamo Vito Torgani, ho 52 anni, mi sto abituando a dire 52 anni perché sono 52enne da poco. E i miei riferimenti sui social sono questi, di professione, non posso parlare di professione, diciamo di passione e come attività sono un imprenditore digitale, di passione sono un biohacker. Da sempre sono stato appassionato, fin da quando ero ragazzino, di crescita personale, di crescita spirituale. Quindi come ottenere il meglio da me, perché ho avuto una parte della mia vita dove mi consideravo calimero, piccolo e nero. Non so se vi è mai capitato di sentirvi calimero. E non mi arrabbiavo. Continuavo a guardare gli altri e dicevo, ma perché questi riescono a ottenere dei risultati e io non riesco? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma la mia domanda, perché le domande sono molto importanti, erano volte a trovare delle soluzioni, non a trovare delle giustificazioni e a sentirmi sempre più piccolo e nero. E quindi nel corso della mia vita ho studiato molto, ho sperimentato molto e ho condiviso con molte persone tutto quello che ho imparato. E ancora oggi io amo condividere quello che imparo. Oggi l'ho detto nella presentazione della sfida Zero Scusa Challenge, un po' uno dei miei obiettivi, uno dei miei sogni, dei miei desideri era quello di condividere gratuitamente quello che imparavo e sperimentavo e oggi grazie anche a questo percorso io posso farlo. Quindi il costo di questo training, che potrebbe avere un valore quantificato, non lo so, io ho pagato migliaia di euro i corsi che ho fatto, il prezzo, il costo, che poi anche lì c'è una grossa differenza tra costo e prezzo, è indicativo. La cosa migliore è che io desidero, io voglio, non dico neanche vorrei, perché il vorrei è voglio ma non posso, voglio che voi mettiate in pratica quello che imparate stasera. Questa è la miglior moneta che mi possa tornare indietro. Quindi se poi me lo promettete, poi dopo magari mi mettete un pollice su se siete d'accordo con questo pagamento, con questa modalità di pagamento, io sono contento e vado avanti. Che cosa andiamo a vedere? Intanto prima di partire, questa qui ho ritrovato, questo training è un training che facevo anni e anni fa e mi è piaciuto andarlo a rivedere e diciamo dargli una veste nuova e una volta i miei training, i miei interventi, chiamateli un po' come volete, non so, non riesco a dargli neanche un nome, la mia condivisione di conoscenza, iniziano sempre con questi presupposti, con queste avvertenze. La prima è che non dobbiamo prenderci in giro. Se noi vogliamo cambiare o migliorare qualcosa di noi, dobbiamo prima di tutto essere onesti con noi stessi, riconoscerla, perché tu non puoi cambiare un qualcosa che non conosci. Tante volte ci raccontiamo, e da qui zero scuse challenge, ci raccontiamo tante belle favole, ci raccontiamo tante belle giustificazioni, semplicemente perché uno dei programmi del nostro cervello è un bias cognitivo, che è quello di fare in maniera tale che non ci sia troppa dissonanza tra quello che vogliamo e quello che siamo, altrimenti diventeremo matti. Quando io ho una situazione, ma ne voglio un'altra e non riesco a raggiungerla, la maggior parte delle nostre volte il cervello che ha un obiettivo primario, e lo vedremo dopo, che è quello di proteggerci e di farci sopravvivere per evitare di farsi diventare matti o farci dare del pirla, ci trova una scusa, un alibi. Quindi non riesco perché, perché non ho la risorsa, perché non è il momento giusto, perché inizio domani, perché non ho le informazioni, perché, 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 perché. Quindi ci giustifichiamo il fatto che noi non abbiamo ancora ottenuto quel risultato. Quindi, prima cosa, non con me, ma con voi, siate onesti. Non prendetevi in giro. Ho messo in giro perché potrò mettere qualcosa di un po' più colorito, ma anche non prenderti in giro, ovviamente, al suo perché. Seconda cosa, non devi essere perfetto. Non aspettare di essere perfetto per partire. La perfezione non esiste. La perfezione, se una persona con voi pretende di essere perfetto, sappiate che non esiste, perché chi è perfetto non è di questo mondo. La nostra vita è fatta di continua evoluzione e quindi la perfezione è una linea di tendenza. Non arriveranno mai a essere perfetti, perché se arrivassimo a essere perfetti, dovremmo passare a un'altra dimensione, come dicevo prima. Quindi è una linea di tendenza, ma tutti i giorni noi possiamo fare qualcosa per migliorarci. E quindi è mirare alla perfezione, mirare al miglioramento, all'automiglioramento costante e continuo. Terza cosa, agisci costantemente. La goccia può scavare la roccia. Lo diceva Seneca, se non sbaglio. Fai anche poco tutti i giorni, i risultati ti sorprenderanno. Ma anche poco tutti i giorni. Poco tutti i giorni. Non pretendere di andare a correre la maratona di New York da qua a un mese se non hai mai corso, ma tutti i giorni fai un chilometro, tutti i giorni fai un chilometro e mezzo, poi due chilometri e così via. E ultimo inizia adesso. Non metterti in condizione di avere gli impianti. Questo percorso Zero Scuse Challenge è anche un po' un modo, come avete visto tutti i giorni ci sono degli esercizi da fare, ma uno dice, ma sì, li faccio domani, inizio più tardi, non li faccio. Non ha senso nei vostri confronti. Cioè, e vi state prendendo in giro. Perché anche poco, leggere la chat, riflettere, portare fuoco su quel tipo di informazioni, in qualche maniera va ad aprire dei programmi nel cervello, va ad aprire degli alert, che vi permetteranno ovviamente poi di ottenere dopo quello che disderate. e andando avanti, la prima cosa che vi chiedo, visto che dobbiamo essere onnesti con noi stessi, date un voto oggi. Oggi lo vestiamo, questo obiettivo ovviamente, sulla trasformazione fisica. Quindi per chi vuole avere maggiore energia, e poi maggiore energia capiremo che non è un obiettivo. Chi vuole migliorare le performance, chi vuole migliorare la forma fisica, chi vuole migliorare, e poi andremo a vedere che cosa. se oggi io mi devo dare un voto, diciamo che qui è 5 è l'uguale, sotto il 5 è il meno, e sopra il 5, il 6, diciamo dal 6 in poi è il pollice in su. Quindi provate a darvi oggi onestamente, senza prendervi in giro, un voto su quello che è la vostra situazione attuale, rispetto all'obiettivo che volete raggiungere questo mese, di trasformazione fisica. Quindi, ma non sono messo così bene, poi attenzione che può essere anche una percezione, perché il nostro cervello lavora per filtri, lavora per presupposti, lavora per credenze. Quello che noi crediamo vero, è vero. Quindi magari io, per me è un risultato scadente, invece se lo leggo io, lo legge un'altra persona, è un risultato eccellente. La cosa importante è che non c'è, per fortuna o per sfortuna, dipende dal punto di vista, un metro uguale per tutti, ognuno di noi ha delle proprie sensazioni. Quello che per me vale 5, per Silvio potrebbe valere 7, potrebbe valere 10, perché è sulla base dell'esperienza, sulla base della conoscenza, sulla base di un qualcosa che è estremamente individuale. Quindi la cosa migliore è, non farmi dire da un altro, adesso ovviamente vestendolo su questo aspetto, se sono troppo grasso o troppo magro. C'è stato un periodo della mia vita, dove le persone mi dicevano, ah, sei troppo grasso, poi quando sono dimagrito, ah, sei troppo magro, non so se mi è mai successo anche voi, e non dimetteremo mai d'accordo con le persone. L'importante è che noi stiamo bene, onestamente con noi stessi, ma onestamente, cioè il fatto che io sto bene, mi vedo bene, riesco a fare quello che voglio fare, per me vale più di mille persone che mi dicono che non sto bene, e mille persone che mi dicono che sto bene, perché anche se mi dicono che sto bene, ma io non penso di stare bene, quello che è vero è quello che penso io. E quindi andiamo avanti. Altre domande? Ci stiamo solo semplicemente scaldando, poi ovviamente entreremo nel vivo di questa condivisione, di questa libera condivisione. una cosa che ho imparato, che oggi è importante sapere bene quello che vogliamo, ok? Quindi sai quello che vuoi? Sai qual è quell'obiettivo che tu vuoi raggiungere? Non mi sono mutolito, cioè nel senso non è sparito l'audio, sono io che faccio un po' di pause, per farvi portare riflessione, farvi riflettere su questo aspetto. Sapete quello che volete? Non dovete rispondermi adesso. Scrivetevelo e vi rispondete dopo. Conoscete il prezzo da pagare? Perché ogni cosa importante nella nostra vita ha un prezzo da pagare. Non è detto che sia in termini economici, ma potrebbe essere in termini energetici, in termini di tempo. Cambiare l'alimentazione è un prezzo da pagare. È un prezzo da pagare dell'abitudine, è un prezzo da pagare magari alzarsi prima la mattina per prepararsi il pranzo, per prepararsi la cena, per prepararsi la colazione. Invece di uscire velocemente alle sette, che devo essere alle sette e mezza, in ufficio, alzarmi alle sette, uscire di casa alle sette e un quarto, se voglio fare, se faccio colazione, farla con calma, mi dovrò alzare alle sei e mezza. Ok? Se voglio andare in palestra alla sera, dovrò mettere in conto che magari arriverò un'ora più tardi a casa, dovrò togliere delle cose magari dalla mia vita. Quindi un prezzo da pagare c'è sempre. Se non c'è un prezzo da pagare, è una cosa che non vale niente. C'è una cosa non importante, cioè forse non vale neanche la pena fatta. E terza, l'ultima domanda, sei disposto a pagare questo prezzo? Se sei quello che vuoi, conosci il prezzo e sei disposto a pagarlo, allora oggi possiamo parlarne. Se no, ci stiamo prendendo in giro. Ok? Scusate, perverrete se sono un po' colorito, ma è importante andare al dunque, perché se no, ci raccontiamo delle belle storie. Perché spesso non si ottengono i risultati? Perché tanti obiettivi e alla fine non si ottiene quello che si desidera? Io ho identificato alcuni punti, ne manca uno, ma poi lo andremo a capire dopo, perché comunque non l'ho messo qua, perché è importante, lo evidenzerò poi in un secondo momento. Di questo altro punto, di questi punti, andremo a parlarne nel training di lunedì 7, che sono le strategie per aggiungere risultati. Oggi andiamo a creare gli obiettivi che vogliamo realizzare, che vogliamo ottenere, e lunedì invece andremo a vedere quali sono le strategie, quali sono quelle 7 abilità, quei 7 segreti, quei 7 pilastri, chiamateli un po' come volete, che ci permetteranno ovviamente di aggiungerli. E una cosa molto importante, questo percorso lo facciamo insieme, anch'io lo sto facendo, e quindi siamo insieme, perché uno dei poteri, uno dei segreti, lo anticipo, ma andremo poi a approfondirlo, uno dei segreti per ottenere dei risultati, è stare all'interno di persone che ottengono risultati, o stare all'interno di un gruppo di persone che vuole ottenere dei risultati, non stare in mezzo a persone che non hanno sogni, che non hanno desideri, che non hanno obiettivi, perché se non siamo bravi, questi tenderanno ad abbassarci. Perché? È una questione di energia, non è una questione di magia, di esoterismo, è una questione di fisica, è una questione di energia. Perché non si ottengono i risultati? uno mancanza di motivazione. E quindi si dice, ah, è facile, ma io penso di essere motivato. Ma la motivazione è un'altra roba. Quindi andremo poi nel percorso, andremo anche ad approfondire il discorso della motivazione. Non vi preoccupate se oggi non vado troppo in profondità, ma è importante che vi dia una panoramica e poi in profondità avremo tempo, perché ci vogliono anni, ci vogliono sperimentazioni, non è una cosa che le persone vogliono tutto e subito. Infatti uno dei motivi per cui le persone ottengono i risultati è la mancanza di pazienza. Quindi vogliono i risultati, tutto e subito. Se non ce li hanno, smettono, non fanno niente per fare in maniera tale di ottenerlo. Mancanza di conoscenza, non sanno come farlo. E ovviamente, uno dei pilastri stasera, ovviamente, è quello di informarvi, di condividere quello che è la conoscenza e le informazioni. Terzo, non sono in ordine di importanza, ognuno di noi potrebbe averne uno prevalente e uno meno prevalente. Mancanza di capacità. Attenzione, qui bisogna aprire solo un attimo, non la parentesi. Mancanza di capacità. Le capacità sono qualcosa che si acquisisce nel tempo. Se immaginate, penso che tutti voi guidiate, quando avete iniziato a guidare, non eravate capace a guidare, ma a forza di guidare, siete diventati bravi, o più o meno bravi a guidare. Non lo so, non posso giudicare qual è la vostra capacità di guidare. Però, se aveste detto, ah, io non sono capace a guidare, quindi non guido, oggi non guidereste. Invece, era una cosa talmente importante imparare a guidare, che a forza di fare, 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 ripetisce, 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 avete imparato a guidare. Quindi, mancanza di capacità, o, presumere di non essere capaci. semplicemente perché nella mia vita, adesso dico a caso, su dieci obiettivi, nove non li ho raggiunti, e quindi penso di non essere capace, e non mi metto neanche in gioco. Quindi non provo neanche ad essere capace. Ok? E anche questo è un argomento che andremo ad approfondire. Non vi preoccupate. Mancanza di coraggio. Adesso non sto parlando, nello specifico, di obiettivi di trasformazione fisica, però per fare determinati grossi cambiamenti nella vita, e io ne ho fatti tanti, e anche molto radicali, ho cambiato, ne parlavo l'altra volta, ma lo accenno, ho cambiato tante volte nella mia vita facendo dei salti nel buio, nel vuoto, perché io arrivo a un certo punto che quando dico basta e basta, cioè prendo e salto, cioè non mi interessa cosa c'è dall'altra parte, mi lancio. Anche perché ho una credenza che comunque vada, a me va bene. Comunque vada, io imparerò qualcosa, comunque vada, troverò sempre la strada per ottenere, per stare bene e per continuare ad alimentare quella che io penso che sia la tua grande ricchezza dell'essere umano che è la felicità interiore, che non c'entra niente da quello che succede fuori, è un qualcosa che si crea interiormente e vi permette, e ci permette di vivere la vita in maniera differente. C'è quinto punto, mancanza di credo. e non credo di essere capace, non credo di farcela, non credo, non credo, non credo, perché magari a volte nel passato o comunque anche solo una volta ho sbagliato, ma l'emozione che ho provato con quell'errore o con quel passaggio di termine non successo, non voglio utilizzare la parola fallimento, non successo, è stata talmente forte quell'emozione che mi ha creato un trauma, una ferita e tanto che non mi metterò più in gioco per paura di sbagliare e stare di nuovo male. Il problema è che non mettendomi in gioco, non avendo il coraggio di affrontare, sono certo che non terrò mai dei risultati. Sesto, mancanza di costanza. Ed è molto legato a quello che è il discorso al punto 7 che è la mancanza di pazienza. Quindi, faccio per un giorno tanto, faccio per un mese tanto, faccio per due mesi tanto e poi smetto oppure faccio un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no, un po' sì. Posso andare a Roma a piedi, vero, è lontano, ma se tutti i giorni faccio, adesso dico a caso, 20 km, arrivo a Roma in un mese. Adesso non so in quanto tempo posso arrivare a Roma camminando. Adesso è giusto, sono degli esempi, non prendete come numero assoluto quello che sto dicendo, come verità assoluta quello che sto dicendo. E l'ultimo, ma non ultimo, che l'altro ultimo era fare troppe cose contemporaneamente, è uno dei problemi perché non si tengono risultati, faccio migliaia di cose, metto in ballo migliaia di obiettivi, 100 obiettivi, la mia energia è 100, ne metto 5 in un obiettivo, 10 in un'altra, 15 nell'altra, alla fine, invece di mettere 100 in un obiettivo, ne metto tanto in tanti obiettivi. Morale della favola, non ho mai energia abbastanza, benzina abbastanza, per raggiungere magari neanche uno e mi sentirò frustato, eh cavolo, faccio tanto, ma non tengo risultati. A volte è meglio fare meno, ma fare meglio che fare tanto e farlo male. E l'ottavo punto, mancanza di obiettivi, obiettivi sbagliati, obiettivi formulati in maniera non corretta ed è proprio il, diciamo, il fulco di questa sera è di andare a creare, andare a vedere come si creano degli obiettivi autorealizzanti. Poi, quanto si realizzeranno, come si realizzeranno, dipenderà anche da questi fattori che abbiamo visto adesso. Ecco, questa qui è un'immagine che a me piace tantissimo, il meccanico perché aggiusta la macchina, il meccanico aggiusta la macchina perché sa come funziona la macchina. e quindi noi possiamo aggiustare il nostro cervello, la nostra mente, se sappiamo come funziona. Se non sappiamo come funziona, faremo molta fatica ad aggiustarla. E poi mi piace anche questa immagine di questo meccanico col computer, è un po' come questa, immaginate me col computer, che vi dico come funziona la macchina e vi aiuto ad aggiustarla. quindi una persona che ci guida nella realizzazione, nell'aggiustare la vostra macchina, nel realizzare i vostri obiettivi. Ok, quindi se non gestisci la tua mente, ricordatevelo, lei gestirà la tua vita. Il nostro cervello ha dei compiti ben precisi. Uno, abbiamo detto prima, che è quello di evitare di farci provare troppo dolore. Perché ha l'istinto di sopravvivenza. C'è l'istinto di sopravvivenza nel nostro cervello. Il suo compito primario è quello di farci sopravvivere. Infatti, per fortuna, è il cervello, una parte del cervello, che va a gestire quelli che sono i battiti cardiaci, quello che è la respirazione. Per fortuna che c'è il cervello che in maniera automatica mi fa respirare. Perché a volte sono talmente da farato che non riesco nemmeno a respirare e sarei già schiattato. Sono talmente indaffarato che mi sono dimenticato che devo far battere il cuore. Sono talmente incasinato che mi sono dimenticato di far lavorare i reni. Quindi, il nostro cervello controlla le funzioni vitali ma controlla anche tutte le funzioni cognitive. Elabora gli input che arrivano dall'esterno e dall'interno. Li deve elaborare prima li raccogli, li elabora e poi ci deve dare delle risposte. Ok? E altro compito fondamentale che è quello che ci interessa stasera il nostro cervello è programmato a tutti gli strumenti e un servo e un meccanismo che è programmato per farci colpire gli obiettivi. Vi faccio un esempio banale. Se voi adesso pensate voglio andare adesso dico a caso voglio andare in cucina a prendere l'acqua scusate la minimizzo ma è per farvi capire che cosa succede ho voglia di bere vado in cucina a prendere l'acqua voi pensate che sia una cosa semplice no? Il cervello deve attivare tutta una serie di meccanismi per fare in maniera tale che dia l'impulso a me di alzarmi dia l'impulso di spostarmi mi dia l'impulso di camminare e di arrivare fino al frigo aprire il frigo lo facciamo tutto in maniera inconsapevole ma è tutto gestito dal cervello perché lui ha il compito di andare a prendere il bicchiere d'acqua al compito gli ho dato l'incarico di dissetarmi stessa cosa stesso meccanismo lo possiamo usare per raggiungere gli obiettivi quando tu metti un programma nel cervello un obiettivo da colpire e per lui è chiaro prima o poi non colpisce o altra cosa è programmato per farci trovare gli obiettivi quando non sono conosciuti sempre esempio banale voglio un bicchiere d'acqua bene parto obiettivo andare a prendere l'acqua secondo modalità farci trovare gli obiettivi che non sono conosciuti stessa cosa è ho sete e quindi il cervello dice cavolo mi do sete cosa posso fare non devo aiutare a dissetarsi c'è l'acqua e mi da l'impulso e mi sveglia e mi dice Vito un pensiero guarda che c'è l'acqua e a quel punto lì ho trovato l'obiettivo da colpire bicchiere d'acqua e mi da ricomincia tutto il meccanismo di prima per fare in maniera tale che io da qua mi alzi e vada giù apre il frigo prenda il bicchiere metta dentro l'acqua e la beva è chiaro sta cosa qui io vedo solo qualcuno qua non vedo tutti è chiaro? è banale? è sconvolgente? è sconvolgente questa roba qua? quanto noi sottovalutiamo il potere del cervello perché siamo abituati a vederlo così eh già ma se noi prendiamo possesso di questa cosa qua sappiate che il nostro cervello e la nostra mente sono al nostro servizio faranno di tutto per farci ottenere risultati gli obiettivi che il cervello e la mente crederà coerenti e andiamo a vedere perché a volte non si ottengono i risultati e quindi come funziona la mente adesso veramente veloce perché non è che possiamo andare troppo nel dettaglio se no ci stiamo veramente qua 15 ore a me farebbe piacere però mi piacerebbe trovarci parlare di queste cose mentre ci troviamo stiamo vicini perché così poi in questo momento sto facendo un monologo ma dopo andremo a chiacchierare ovviamente abbiamo due misferi destra e sinistro che sono diversi nelle loro funzioni ma sono uguali per importanza una parte sinistra più logica una parte destra più emotiva il discorso l'obiettivo è quello di farli comunicare in maniera sincronica quindi a me piace dire emozionalmente logica quindi il nostro cervello noi abbiamo bisogno di cose concrete ma ciò che ci muove sono le emozioni ok la cosa concreta determina l'obiettivo al millesimo al centimetro e la parte emotiva ci dà l'energia quando vi ho detto la motivazione è una emozione se non c'è l'emozione le emozioni sono ciò che danno valore alla nostra vita e sono ciò per cui noi viviamo non viviamo per ottenere delle cose materiali ma viviamo per soddisfare stati emotivi come funziona la nostra mente sempre altro cappello abbiamo due grosse leve e non è giusta una non è giusta l'altra io diciamo che ho una predilizione predilizione vabbè comunque prediligo una delle due una è immaginate l'obiettivo una è lontano dal dolore voglio ottenere quella cosa lì perché adesso dove sto sto troppo male e quindi voglio ottenere quella quell'obiettivo lì realizzare quel progetto per fare in maniera tale di stare meno male ma noi siamo programmati per stare bene per vivere nel benessere ed è un tipo di leva che alla fine potrebbe creare molta frustrazione e vi spiego anche perché lo vedremo anche dopo siccome il nostro cervello funziona per immagini mentali ogni cosa che lui vede la trasforma in immagini mentali se io penso alla situazione dove non sto bene posso fare tutto quello che voglio ma lo stato emotivo non è uno stato emotivo potenziante non è uno stato emotivo che mi dà energia per andare avanti e quindi avrò sempre quell'immagine di dolore quell'immagine di sofferenza e questo stato emotivo non mi spinge se invece io uso la leva e io sono dell'idea che è importante spostarsi sulla leva del piacere e anche su questo andremo a approfondire perché c'è un adesso ma chiamatela formazione chiamatela un po' come volete un corso dove andiamo a fare proprio la differenza tra sogno e bisogno come si può cambiare quando io ho bisogno di ottenere un risultato a portarlo in sogno come posso desiderare di ottenere un qualcosa invece che allontanarmi da un bisogno quindi la seconda leva è verso il piacere e quando pensate a qualcosa di piacevole ovviamente lo stato emotivo è potenziante uno stato emotivo superiore e avrete più energia ovviamente per tornare risultati diciamo parliamo del presupposto che non è uno giusto uno sbagliato non esiste giusto e sbagliato ma io personalmente preferisco il verso il piacere ho imparato nella vita a trasformare le cose che non mi piacciono in cose che mi piacciono non è semplice perché è una questione di abitudini di mindset di mentalità e si può arrivare cioè non è impossibile se ci sono arrivato io credetemi ci potete arrivare anche io e quindi immagini mentali quindi prima cosa immagini mentali andremo a vedere come crearle giuste immagini mentali per ottenere quello che desideriamo seconda cosa provate a leggere questa frase fino alla fine fatto quanti di voi hanno al primo passaggio visto che c'è scritto due volte la parola la il nostro cervello attenzione selettiva lui dà per vero che non possono esistere due parole la vicine e quindi la seconda la salta questo mi serve per capire che spesso io non sono veramente attento nel percorso realizzazione degli obiettivi bisogna portare molta attenzione a quello che facciamo e non dar per scontato quello che pensiamo di vedere altra cosa provate a leggere questa questo sono cose che prendo a inter non le ho vedo io non leggete giallo leggete il colore quindi esempio al posto di giallo il colore è verde leggete verde e così via provate a dire il colore con il quale è scritta la parola a un certo punto il cervello va in pappa vero? va in pappa? c'è qualcuno che può dire sì o no? va in pappa? quasi se va se va bene arrivate fino al verde giallo al rosso il rosso scritto in blu lì siete già nel pallone perché c'è il pallone non riusci a capire ma devo vedere il colore devo leggere la scritta fa fatica quindi se noi utilizziamo al meglio queste 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 caratteristiche sappiamo come gestire meglio i nostri obiettivi e invece questo sicuramente l'avrete visto migliaia di volte leggete il prossimo testo lo so è completamente sbagliato ma voi l'avete letto nella cioè l'avete interpretato nella maniera giusta corretto? ok e adesso chi l'ha già fatto non dica niente chi non l'ha ancora fatto faccia questo esercizio e ditemi cosa notate ma la chat sai che non so se la chat è aperta è aperta la chat scrivete un po' cosa notate cosa avete notato c'ho la chat aperta non potete scrivere domanda o potete scrivere un calcolo errato ok diciamo che possiamo andare avanti voglio adesso capire perché non mi fa chiudere scusate interrompo solo un attimo la condivisione perché se no non ok un calcolo errato un altro programma del nostro cervello della maggior parte delle persone che dobbiamo utilizzare a nostro favore è quello che ci porta attenzione su ciò che è sbagliato vero però perché non avete detto ci sono sono cinque sono cinque sono cinque operazioni ce ne sono quattro giuste sappiate che se voi dovete creare un obiettivo è più facile che il vostro cervello vada a vedere le volte che non siete riusciti piuttosto che le volte che siete riusciti ok sappiatelo che in qualche maniera per qualche motivo fa parte della nostra evoluzione tendiamo ad andare a vedere le cose che non vanno bene piuttosto che le cose che vanno bene se noi lo utilizziamo in maniera propria lo cambiamo se invece il cervello la nostra mente gestirà noi tenderemo ad andare a vedere tutte le volte che non siamo riusciti a ottenere dei risultati piuttosto che tutte le volte che siamo riusciti a ottenere dei risultati e quindi alcuni dei programmi riempimento automatico il discorso delle parole che invertite il discorso di quella di quella scritta che era completamente sbagliata ma il nostro cervello sulla base di quello che conosce o quello che pensa di conoscere va a riempire ed è importante sapere perché non sempre le cose che vediamo sono come sono ma pensiamo che siano così sulla base della nostra esperienza e l'attenzione selettiva e quindi adesso entriamo nel vivo degli obiettivi non esiste evento favorevole per il marrinaio che non sa dove andare sempre Lucio a Neo Seneca quindi è importante identificare bene il porto dove vogliamo arrivare per poi belleggiare in direzione di questo obiettivo come si crea un obiettivo autorealizzante c'è un acronimo che avrete già sentito magari mille volte che si chiama SMARTE già sentito? non l'avete sentito? se l'avete già sentito lo rivedrete in maniera differente se non l'avete ancora sentito lo sentirete stasera prima o prima volta ed è un qualcosa perché c'è questo acronimo perché mi permette di andare a vedere a settare quali sono i punti importanti che devono essere presenti all'interno di un obiettivo ma ovviamente andremo un paio a vederlo come funziona S sta per specifico quando dicevo prima che vi ho detto che non è un obiettivo voglio ottenere più energia non è specifico il nostro cervello più gli diamo informazioni e più lui ha indizi e coordinate per colpire l'obiettivo voglio andare a fare un viaggio è un obiettivo? no voglio andare a fare un viaggio il prossimo mese è un obiettivo? no voglio andare a fare un viaggio il 17 di novembre è un obiettivo? sì il mio cervello andrà a cercare tutte le soluzioni per fare in maniera tale che io vado in viaggio parte in viaggio il 17 novembre quindi chiama l'agenzia prenota il volo prenota il parcheggio prenota di qua a tratto scusate io il 17 parto quindi poi sposteremo alcuni appuntamenti se non gli do informazioni corrette lui cosa fa? o perde tempo e vaga oppure va a prendere dei vecchi programmi dei vecchi obiettivi e perde del tempo ok? quindi specifico devo sapere lui ha bisogno di tutte le informazioni oppure voglio andare in viaggio entro un mese allora quel punto lì cerca le soluzioni ma voglio andare in viaggio il prossimo mese il prossimo mese il prossimo mese potrebbe essere novembre dicembre gennaio febbraio è un qualcosa che non si potrà mai realizzare se non è specifico seconda cosa misurabile quindi deve essere un qualcosa che il nostro cervello ricordate è parte logica è parte emotiva deve riuscire a quantificare se no non può ragionarlo non può raggiungerlo l'universo è matematico la vita si basa sulla matematica gli obiettivi devono essere matematici quindi matematica ed emozioni logica ed emozioni logica ed emozioni e così si va deve essere attivo deve dipendere da noi intanto vado a vedere la specifica quindi immagrimento specifico che cosa voglio ottenere? dimagrimento voglio ottenere migliori performance anche qui non è ancora ben specifico cioè so che cosa voglio ottenere ma poi lo devo misurare quindi un qualcosa che è quantificabile ad esempio è un obiettivo voglio avere più energia? no che cosa farò grazie a quell'energia? che qual è quel parametro quella cosa misurabile che fa capire a me che ho ottenuto più energia? ad esempio voglio avere più energia per fare adesso dico a caso per andare tre volte alla settimana in palestra ok? e quindi quando riesco ad andare tre volte a settimana in palestra ho raggiunto il mio obiettivo voglio dedicare più tempo alla famiglia è un obiettivo? no non è quantificabile voglio dedicare tutte le settimane tre ore di qualità alla famiglia è un obiettivo specifico e misurabile se no rimane un sogno non lo so un'illusione una speranza voglio a tutti che dicono voglio dedicare quest'anno voglio dedicare più tempo alla mia famiglia voglio dedicare più tempo ai miei hobby voglio stare di più con me stesso ma il cervello se non gli dà informazioni precise non ti aiuterà mai a ottenere niente o ci aiuta o va in giro per i quali proprio quindi specifico e misurabile attivo dipende da me ah non posso avere più tempo dedicare più tempo alla mia famiglia perché il lavoro me lo impedisce e alla fine ti stai dicendo quella famosa scusa che cavolo di obiettivo hai fatto se dentro di te non ti senti responsabile di quello che fai se dentro di te non vuoi creare le condizioni per fare in maniera tale di avere più tempo a dedicare la famiglia ah voglio mangiare meglio già voglio mangiare meglio già non è un obiettivo vabbè ma adesso proprio le spariamo a zero a caso ma non posso perché mangio tutti i giorni fuori capisci che non non riuscirai mai a ottenere un risultato perché ti stai già dando la giustificazione del fatto che sei già che non lo terrai e allora non crearti questo obiettivo non creartelo perdi il tempo vai in frustrazione non ti serve dipende da te voglio mangiare meglio vuol dire che voglio fare due pasti sani al giorno per me pasto sano vuol dire mangiare lo carbo adesso dico a caso mangiare più grassi mangiare più proteine e faccio in maniera tale di organizzarmi i pasti e le cene i pranzi e le cene per mangiare bene se i miei colleghi vanno in mensa io mi mangerò il piatto a parte mi berrò uno shape proteico mi berrò un chetone visto che ce li abbiamo che fanno bene magari faccio colazione bene alla mattina salgo al pranzo bevo il chetone mangio a sé alla sera a casa devi dipendere da voi se c'è ma io non posso perché mia moglie non vuole mio fratello non vuole mio figlio non mi lascia perdiamo te ok? dipende da te sono tutti i check che vanno fatti ovviamente quando si chiamano obiettivo realistico coerente tempo e spazio voglio adesso dico a caso eh perdere peso 100 kg voglio dimagrire 30 kg in un mese è coerente col tempo e con lo spazio? no non è coerente né con il tempo né con lo spazio né con le cose che riesco a fare né con il tempo che posso utilizzare e ricordatevi sempre verso e lontano se sono persone che vogliono eh ottenere una forma migliore fisica il che è quantificato in raggiungere un determinato peso eh di massa magra io posso dire peso 100 kg voglio arrivare a 70 posso dire voglio perdere 30 kg ma è sempre lontano dal dolore e poi all'essere umano non piace perdere penso che anche a voi non piaccia perdere niente e quindi il fatto che quando noi perdiamo qualcosa cerchiamo di recuperarla è meglio dire verso positivo voglio ottenere raggiungere 70 kg di massa magra è la stessa cosa ma la leva dentro le emozioni sono completamente differenti dal voglio perdere 30 kg voglio raggiungere i 70 kg di massa magra chiaro questo? poi andiamo nello spicci tipificato entro quando se non c'è un tempo entro il quale fare quello che dobbiamo fare non lo faremo mai sapete perché sulle bollette mettono la data di scadenza? perché se non la mettessero non le pagherebbe nessuno se vi arriva una bolletta e non c'è la data di scadenza ma si la pago domani la pago fra un mese la pago fra un anno il nostro corpo il nostro cervello ha bisogno di tempo deve sapere da quando a quando può agire quindi entro quando voglio ottenere quello che voglio ottenere e ovviamente è legato anche il passaggio prima realistico voglio arrivare a 70 kg in un mese non è realistico sì l'ho tempificato entro un mese entro il oggi quanto ne abbiamo? 4 entro il 4 di dicembre del 2022 voglio voglio arrivare a 70 kg non è tempificato ma non è realistico non è coerente è una è una presa in giro quindi ricordatevi sempre non prendevi in giro con qualcosa che sia coerente tempo e spazio emozionato vi ho detto prima che noi viviamo per soddisfare stati emotivi quindi qual è quell'emozione che provi se oggi chiudi gli occhi e pensi al tuo obiettivo realizzato siccome il nostro cervello lavora per l'immagine mentale non fa differenza tra quello che vede e quello che immagini vedere ogni volta che noi creiamo un'immagine mentale il nostro cervello crea delle emozioni perché sono quelle che ci danno l'energia per muoversi quindi quali sono quelle emozioni che provi oggi pensando all'obiettivo che vuoi realizzare non dovete scriverlo oggi non vi preoccupate scrivetelo e poi ne parliamo magari in un altro incontro ne parliamo privatamente in qualche maniera ne parliamo se non vi preoccupate se oggi non riuscite a farlo ci vorrebbe adesso un esercizio 10 minuti per creare l'obiettivo però incominciate a buttarlo giù quindi specifico cosa volete ottenere deve essere misurabile centimetri taglie tempo ad esempio se uno vuole migliorare le prestazioni di quanto le vuoi migliorare migliorare quali sono quelle cose che vuoi fare nell'arco della tua giornata per dimostrarti che hai più energia ok e ovviamente prendetelo anche nella vostra attività queste cose qui vanno bene anche nella vostra attività qualunque attività voi facciate se volete cambiarla se volete va sempre bene questo quali emozioni provate una volta che l'avete scritto perché va scritto chiudete gli occhi e provate a immaginarvi voi che avrete raggiunto il vostro obiettivo quali emozioni provate sono queste che vi fanno muovere e quando dicevo prima lontano dal dolore se io penso a una situazione voglio ottenere questo risultato questo obiettivo qua perché qua sto male il problema è che nel momento che io vado a pensare al fatto che sto male mi si abbassa lo stato emotivo se non sono bravo a rialzarlo ad alzarlo io ho quello stato emotivo che i stati emotivi bassi non ci fanno muovere non ci danno energia quindi è sempre importante riuscire a creare interiormente degli stati emotivi potenziali ecologico in linea con i tuoi valori se per ottenere un risultato un obiettivo vado contro i miei valori il 99% delle volte mi boicotterò vi faccio un esempio è un esempio immediato voglio andare in palestra tutti i giorni ma andare in palestra tutti i giorni mi porta lontano dalla famiglia se la famiglia per me è un valore importante alla fine smetterò di andare in palestra perché andrò a togliere del tempo alla famiglia che è importante quindi deve essere qualcosa in linea quei valori quindi in questo caso qua invece di dire voglio andare in palestra tutti i giorni tutti i giorni sette ore e so che comunque toggo del tempo alla famiglia per me è un valore importante dirò voglio andare in palestra tre volte alla settimana ci andrò da quell'ora a quell'ora e allo stesso tempo troverò il tempo e la qualità del tempo da dedicare alla famiglia e a questo punto non va contro i vostri valori primari e di conseguenza potete ottenerlo se no inconsciamente se va contro i vostri valori non è ecologico prima o poi è un obiettivo che si arena perché per voi la priorità è quel valore lì e non è andare in palestra deve essere scritto scritto io amo scrivere su carta io scrivo gli obiettivi su carta li scrivo tutti i mesi tutte proprio su carta mi piace non mi piace sì poi a volte mi trasferisco sul computer ma a me piace proprio scrivere è anche una cosa che mi piace a volte scrivere bene cioè io voglio scrivere per scrivere bene e deve essere positivo quindi ricordatevi sempre non voglio smettere di soffrire non voglio smettere di sentirmi grasso voglio ottenere quel determinato risultato sempre positivo vi faccio un esempio di un obiettivo che ho creato per questa challenge con voi che è il mio io voglio avere il six pack quindi gli addominali i sei cubetti non proprio magari però evidenti entro il 20 dicembre 2022 perché non l'ho detto entro una settimana perché non l'ho detto entro fine mese perché non l'ho detto entro un mese perché facendo il check ci sono delle situazioni che diciamo che potrebbero deviarmi da quello che è l'obiettivo perché io so che cosa bisogna fare per avere il six pack lo so cioè non è che non lo so se oggi non l'ho mai ottenuto se l'ho ottenuto diciamo raramente è perché non ho fatto le cose che vanno fatte adesso lo voglio ottenere per una questione mia personale perché io ho immaginato come mi sentirò quando avrò il six pack mi sentirò appagato perché sarà una cosa che è un po' che voglio fare e non l'ho mai fatto coerente con questa sfida coerente con me stesso perché metterò in atto dei comportamenti che mi faranno sentire coerente con quello che è la mia missione personale la mia missione di sfida è sano non so perché sentirmi così vuol dire che ho mi sono mosso bene mi sono alimentato bene ho fatto tutte le cose che devo fare e di conseguenza si mi sentirò anche più sano e se andiamo a fare il check specifico misurabile attivo realistico tempificato emozionante ah emozionante vabbè comunque emozionante ed ecologico per me sono tutti i check specifico six pack specifico e misurabile sì perché è qualcosa che si vede sono sei e si vedono i cubetti è misurabile il six pack è misurabile è attivo sì dipende da me è realistico sì l'ho traslato di un po' perché come vi ho detto il 17 insomma 17 o 16 parto vado vado via per dieci giorni e quindi essendo in giro potrei non essere sempre così ligio con la mia sfida quindi mi sono preso qualche giorno in più avevo provato a mettere un mese ma sapevo che un mese dentro di me non era coerente non era realistico e quindi non c'è niente di male cioè potrei metterlo anche entro il primo gennaio del 2024 è ovvio che troppo avanti quindi inizierò più avanti però potenzialmente potrò metterlo quando volevo emozionante sì ed ecologico sì in linea con i miei valori sì in linea con tutto quello che faccio sì punto detto questo interrompo tutto ho finito la mia parte di interrompere condivisione interrompo la registrazione interrompo